Un terzo della Serie A è su Dazon, sabato sera alle 8 e mezza, se volete guardare il calcio, se volete guardare la Serie A dovete venire su di noi. Tramite la selezione dei match più importanti siamo riusciti ad assicurarci il derby d'Italia, Juventus-Roma, il derby della Mole e oltre a Napoli-Milan e Milan-Napoli all'andata e al ritorno. Ma per darvi un'idea della nostra offerta dovete guardare le prime tre giornate, le prime tre giornate abbiamo durante la prima giornata in esclusiva Inter-Lazio-Napoli, seconda giornata Milan-Napoli, partita importantissima, terza giornata Juventus-Parma, questo per darvi un po' un'idea di come sarà la nostra offerta. Abbiamo poi questa diritti della Serie B, Serie B molto importante al centro del nostro progetto che ci permette di arrivare in modo capillare a tutte le famiglie in Italia e ad avvicinare i fan italiani. Anche in questo caso fan al centro cerchiamo di riavvicinare tutti i fan della Serie B rendendolo accessibile a 9,99, tutto compreso. Siamo andati oltre, come James diceva prima, abbiamo avuto solamente due mesi, quindi molto poco tempo e in molto poco tempo però siamo riusciti a costruire secondo me un'offerta molto competitiva. Abbiamo acquistato i diritti della Liga in esclusiva, della Liga, quindi le grandi partite da Barcellona e Madrid, Buffon, Veratti, Valotelli, le grandi partite del PSG e via dicendo. Siamo andati oltre Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana, Africa Cup of Nations, FA Cup, anche questo competizione tra le più grandi squadre della Premier League, EFL, sport americani, NFL, NHL, MLB, i più grandi incontri di box attraverso le esclusive di Showtime e Matchroom, Fighting, esclusive di UFC, Bellator. Siamo andati oltre, abbiamo acquistato anche un verticale sul rugby con le più grandi incontri, le più grandi partite di rugby europeo.